Commodo, l'imperatore guerriero romano. Luccio Aurelio Commodo, noto come Commodo, è stato un imperatore romano che regnò dal 180 al 192 dicifiglio del famoso filosofo e, imperatore Marco Aurelio, Commodo è una figura controversa nella storia romana. Da un lato, era un abile guerriero e gladiatore, noto per la sua forza e il suo coraggio. Dall'altro, era considerato un tiranno crudele e megalomane, che perseguitò il Senato e il popolo romano. I primi anni e l'ascesa al potere. Commodo nacque il 31 agosto 161 di Cialanuvium, in Italia. Era l'unico figlio maschio di Marco Aurelio e Faustina minore. Fin dalla giovane età, Commodo mostrò un grande interesse per la guerra e l'atletica. Venne educato da alcuni dei migliori tutori dell'epoca, tra cui il filosofo Gaio. Nel 177 dici, Commodo fu associato al trono dal padre. Insieme, padre e figlio condussero diverse campagne militari contro i marcomanni e i quadi, tribù germaniche che minacciavano l'impero romano. Commodo si distinse in battaglia per la sua abilità e il suo coraggio. Il regno di Commodo Nel 180 dici, Marco Aurelio morì e Commodo divenne l'unico imperatore romano. All'inizio del suo regno, Commodo si dimostrò un sovrano clemente e saggio. Concluse la guerra contro i marcomanni e i quadi con una pace favorevole all'impero romano. Inoltre, promosse la cultura e le arti e fece costruire numerosi edifici a Roma. Tuttavia, con il tempo, Commodo divenne sempre più paranoico e crudele. Si circondò di pretoriani e iniziò a perseguitare i suoi nemici, reali o presunti. Nel 183 dici, uccise il consul Auffidio Victorino, che lo aveva accusato di tirannia. Commodo e il Senato Commodo aveva un profondo odio per il Senato, che considerava un ostacolo al suo potere assoluto. Nel 192 dici, uccise alcuni senatori e ne fece esiliare altri. Inoltre, cambiò il nome di Roma in Commodo. La morte di Commodo Il regno di Commodo terminò nel 192 dici, quando fu strangolato a morte da un gruppo di congiurati, tra cui la sua concubina Marcia e il prefetto del pretorio Quinto Emilio Leto. Eredità Commodo è una figura controversa nella storia romana. Da un lato, era un abile guerriero e gladiatore, noto per la sua forza e il suo coraggio. Dall'altro, era considerato un tiranno crudele e megalomane, che perseguitò il Senato e il popolo romano. La sua morte segnò la fine della dinastia degli Antonini e l'inizio di un periodo di instabilità politica per l'impero romano. Conclusione Commodo è un esempio di come il potere assoluto possa corrompere anche la persona più virtuosa. Nato in una famiglia di filosofi e imperatori saggi, Commodo si trasformò in un tiranno crudele e sanguinario. La sua storia è un monito per tutti i leader, affinché non abusino del loro potere. La sua storia è un monito per tutti i leader, affinché non abusino del loro potere, affinché non abusino del loro potere, affinché non abusino del loro potere. Grazie. 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 Grazie.